Federico, l'Arezzo ha perso 1-0, non so quanto maro c'è per una partita che sembrava andare avanti sul filo dell'equilibrio poi l'ha spezzata un calcio piazzato di Coresi, insomma alla fine il risultato è giusto secondo te? Per quello visto in campo credo di no, insomma Castarricone credo che al di là del tiro di Coresi non abbiamo aiutato un porta quindi è ovvio che siamo stati un pochino ingeni nella situazione della punizione perché abbiamo sbagliato una rimessa laterale abbiamo fatto un mani credo molto ingenuo, tra l'altro poteva essere anche rigore credo, forse anche dentro l'area quindi ci abbiamo preso la munizione e poi secondo me la barriera l'abbiamo messa male perché credo che ho parlato con Roberto e lui mi ha detto che voleva coprire il palo ma insomma ha messo la barriera secondo me troppo spostata e secondo me non può dare la possibilità a un giocatore come Coresi di giocare la palla dietro la barriera, cioè tu copri un palo e la barriera te ne copre l'altro ma al di là di questo che tanto quando si subiscono i rigori ci sono sempre degli errori è difficile anche in queste categorie trovare la giocata balistica però poi nel corso della partita a primo tempo abbiamo giocato meglio del Castarricone credo e abbiamo fatto più nella partita, abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo gestirle meglio abbiamo creato due situazioni credo dove il portiere Zuccone una volta l'ha sfilata ma ha preso il palo poi un'altra parata su Zuppardo dobbiamo osare un pochino di più perché Castarricone nel primo tempo l'ha visto un pochino scarico e sugli esterni abbiamo tanto spazio invece non abbiamo accelerato come piacerebbe a me però poi nel secondo tempo dopo 10-11 minuti abbiamo subito questo gol e da lì in poi ci siamo un pochino allungati, loro sono stati più bravi nel palleggio e al di là della situazione di Dieme che penso che era sull'ischetto del rigore una palla invitante per metterla in porta non abbiamo creato altre situazioni e non le abbiamo nemmeno subite quindi alla fine credo che il risultato più giusto fosse quello del pareggio però lo dobbiamo accettare e adesso ci godiamo la Pasqua perché credo che sia una festa importante e poi ripartiamo martedì mattina perché ci aspetta una partita a Bastia dove dobbiamo ripartire si poteva fare di più oggi oppure considerando l'avversario lo sviluppo della partita e le assenze insomma più di questo la Rizzo non poteva fare no ma le assenze sono importanti, credo che un giocatore come Martini a suo piccolo sono determinanti per la nostra squadra quindi noi in mezzo al campo abbiamo poche alternative al di là di Mastro Mattei che è un centrocampista paro dei giocatori esperti se avete visto poi alla fine abbiamo finito con Idromela e Barluzzi che sono i 2,94, 1,95 quindi oggi sicuramente ci mancava qualcosina a mezzo al campo però tutta questa differenza non si è vista col Castelregone mi sarebbe piaciuto ottenere un risultato positivo perché davamo seguito alla classifica e potevamo guardare ancora un gradino più alto però devo anche riconoscere che i ragazzi in 12 giorni hanno giocato quattro partite e qualche giocatore come Bianchini oggi era un pochino stanco quindi gli altri che hanno giocato sono tutti giovani e è ovvio che quando hai una squadra giovane qualcosina a qualche errore lo puoi concedere Come è andato il tuo ritorno qua a Castelregone? Che tipo di accoglienza c'è stata con il tuo collega quarta? Come sono andate le cose? Ci siamo salutati ma l'accoglienza qui a Castelregone è sempre molto piacevole perché ripeto il presidente Cucinelli ha dato un'impostazione un pochino diversa quindi la gente mi ha accolto molto bene di questo sono contento perché credo di aver lasciato un buon ricordo non tanto come giocatore ma come persona perché alla fine devi saperti comportare devi saperti relazionare con tutti dal magazziniere al giocatore più piccolo al giocatore più bravo Debutto in panchina, vittoria contro l'Arezzo altro in un momento importantissimo per il Castelregone Nofi ha detto che alla fine forse il pari sarebbe stato più giusto D'accordo? Guarda io ti dico la verità per come è andata la partita un pari, una sconfitta, un pareggio avrei dato lo stesso giudizio a fine gara perché penso che sia stata una partita bellissima intensa come ce l'aspettavamo perché lui fa giocare le squadre sempre a mille e quindi su questo eravamo preparati Penso che abbiamo fatto un'ottima partita anche noi quindi il risultato, ripeto è venuta una vittoria per noi, siamo contenti ma se fosse venuto un pareggio o una sconfitta non sarebbe successo niente e non avremmo manco gridato lo scandalo perché loro hanno giocato alla pari con noi e ripeto, è stata una bellissima partita sono contento della prestazione dei ragazzi perché dopo una settimana così magari qualcuno aveva detto che il Castelregone ha fatto il cambio per abbassare la guardia perché non vuole vincere ma questo non può succedere qua perché questa è una società che prova sempre fino alla fine a fare il massimo poi la differenza è soltanto che se non succede se non riesce a vincere non c'è quel famoso fallimento che usano tutti come termine sportivo che il fallimento è soltanto se uno non paga i stipendi oppure va fallita la società a livello economico Infatti proprio questa era la domanda successiva alla luce anche della classifica che è venuta fuori dopo i risultati di oggi insomma il Castelregone è in lotta per vincerlo questo campionato c'è la volontà di salire di categorie? Ma assolutamente noi ripeto abbiamo fatto il primo anno con Federico in panchina contro il Perugia ci avevamo contro una corazzata sicuramente il presidente non è uno che fa le follie gli ultimi mesi per chissà che magari in quel momento eravamo un pochino più risicati come Rosa e non siamo riusciti a raggiungerli secondo anno l'anno scorso praticamente non abbiamo fatto benissimo e quest'anno ci stiamo provando non c'è stata mai un'annata che siamo arrivati primi fino all'ultima giornata e poi abbiamo fatto il passo indietro vuol dire scritto i numeri sono quelli ci abbiamo sempre provato ripeto la differenza è soltanto sul fatto che se non ce la facciamo si ricomincia tranquillamente la filosofia del presidente è questa però bisogna sempre come al solito rispettare anche insomma quello che di bello c'è qua intorno ha detto l'altro giorno con Nofi adesso non è che c'è tanto amore fra me e lui vi siete salutati prima della partita assolutamente c'è stato anche il bacio ma ripeto sono delle incomprensioni penso che siano anche normali dopo il tempo dirà com'è la situazione sono tranquillissimo di quello che ho fatto ma penso anche lui dopo molte volte c'erano i contorni che creano confusione grazie in bocca al lupo Giuseppe Seci tre vittorie di fila poi è arrivata questa sconfitta contro un avversario forte si sapeva che era una trasferta difficile questa Nofi però ha detto alla fine il pari forse era il risultato più giusto sei d'accordo? sì assolutamente ripeto come ho detto prima abbiamo come al solito abbiamo creato tanto con il minimo penso due o tre quasi uniti davanti al portiere e abbiamo subito questo gol che è dettato da un fallo comunque sia in ripartenza nostra però penso che comunque sia il pareggio sia il risultato più giusto e niente poi penso dal punto di vista atletico col fatto che abbiamo fatto quattro partite nel giro di tredici giorni la squadra stava bene il primo tempo ci siamo comunque sia studiati perché il Castelicone è una squadra attrezzata davanti di tanta qualità e la partita da fare era questa purtroppo peccato per il risultato che ci ha un po' penalizzato ecco la luce anche di questo risultato adesso quale obiettivo porvi per questo finale di stagione diventa un po' anche difficile capire dove e cosa deve guardare l'Arezzo se guardarsi alle spalle o guardare davanti noi guardiamo sempre avanti l'obiettivo rimane sempre lo stesso che sono i playoff adesso noi da martedì ricominciamo a lavorare adesso questi due o tre giorni di riposo li sfrutteremo al meglio per riprendere le forze sono state due settimane pesanti e martedì ricominciamo da capo da centrale sembri davvero un altro giocatore anche oggi in un test importante contro Tranchitella Di Paola contro Coresi Agostinelli insomma te la sei cavata molto bene credo che ormai il tuo futuro sia in questo ruolo sei d'accordo? la pensi così anche tu? beh sì va bene basta giocare alla fine quindi posso pure giocare terzino centrale non è un problema sì ho giocato molto bene queste ultime partite adesso vediamo per il futuro non sta a me decidere basta io do sempre il massimo non ok il Barrio Zuppardo è andata male per te era una partita anche particolare visto che eri l'ex insomma ti è pesato non aver segnato il gol ci sei andato vicino nel primo tempo sì sì no no però dai si è giocato bene la squadra c'è stata sempre siamo stati sempre lì sul pezzo comunque abbiamo combattuto fino alla fine purtroppo questo gol su punizione però il calcio è fatto anche così Castelricone è qualcosa in più dell'Arezzo in questo momento parlo dal punto di vista delle motivazioni degli stimoli o anche della qualità in mezzo al campo ma io guarda sinceramente non ho visto tutta questa differenza perché c'è una partita che alla fine loro oltre al gol non hanno fatto tutti questi tiri noi siamo stati sempre lì ogni palla abbiamo lottato perciò non ho visto tanta differenza ecco semmai mancata forse un po' di reazione dopo il gol subito ecco lì la partita si è un po' spenta a parte l'occasione di Diem poi l'Arezzo non ne ha avute molte altre anche se era difficile obiettivamente reagire in quel momento sì sì forse sì c'è stato un attimino magari dopo il gol un attimino però poi abbiamo avuto anche quell'occasione se fa gol è sempre uno a uno però giustamente si è visto un po' un attimino però la partita era questa perciò l'obiettivo dell'Arezzo adesso qual è secondo te? ma noi come poi col mister si lavora sempre ogni giorno sempre forte perciò ci tenevamo tanto a questo perché per il nostro percorso perciò lotteremo ogni domenica e vediamo fino alla fine dove possiamo arrivare grazie ciao bocca al lupo